Fighetti, volete anche voi vincere una skin, un ballo o un piccone? Bene, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella Mi raccomando di dare un like a questo video e nei commenti un commento in realtà il video Però, regà, dovete seguirmi anche su Instagram perché lì dirò i vincitori delle skin del ballo e del piccone Ciao a tutti fighetti, qui è Sykes Sono tornato in questo nuovo video perché oggi, regà, faremo la reazione a un video di Camtasia Appunto è un video e vedremo cosa succederà sull'autobus di Fortnite in questo video Ma come sempre, prima di iniziare ogni video vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella E noi, regà, iniziamo subito appunto con il video Però, regà, prima di iniziare vi avevo detto su Instagram che nel mio prossimo video vi mostriamo il mio nuovo tatuaggio Eccolo qua, questo l'ho fatto oggi E' un bellissimo tatuaggio, cioè a me piace Poi nei commenti dite quello che volete, magari fa anche schifo, però a me la mi interessa perché non mi frega degli hater E nulla, regà, appunto iniziamo con il video Allora, prima di iniziare metto le cuffie che se no non sento come sempre Una minchia Ringrazio sempre Camtasia appunto per questo video Che questo video appunto è di Camtasia Che l'ha fatto lei, lei è proprio bravissima a fare i video, è una femmina ma veramente brava Veramente gg per lei Chi siete? Allora iniziamo subito Ok, siamo nell'autobus di Fortnite, tutto normale per adesso, eh Ok, ci sono i due maghi Che Per sbaglio fanno una magia E colpiscono un default skin Che cade un panino Inizia a volare il default skin Tutto normale E' esploso Regà, è esploso il default skin E' di più Non esiste più Ho fatto l'arrivo Boh, è un panino, regà È un panino Devo fare un test sulla season 7 Aiutami Poi vabbè, non sono niente di inglese Sta scerpellando Guardi, conta con le dita scatenato Non capisco un cazzo Una scarpa? What the fuck No, è mio No, è mio Il biscotto sta incazzando, eh I believe you should both let it go As he belongs to me No, è mio il biscotto La ladria che vuole ormai i soldi Guardatela Ai June week Livello 1, livello 100 Scriviti C'è la canzia sottofondo Scriviti, regà Boh, questo si tocca Ehi guarda Ecco dove sta Ma what? Un elfo? Vado a giocare a FIFA Vado a giocare a FIFA Anzi no Vado a dormire Buonanotte, regà Ok ragazzi Spero che questo mini video vi sia piaciuto Se così lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E noi come sempre Ci becchiamo ad un prossimo video Bella ragazzi Bella ragazzi Ciao